Davide Paglia ai nostri microfoni al termine di Molfetta Bari Davide la tua impressione su questo match? Allora innanzitutto vorrei dedicare come ha fatto Fabio la vittoria e la bella prestazione comunque a Tonino che è sempre stato uno di noi e lo sarà sempre La partita comunque è stata una bella partita ai primi due quarti dove è stata una partita intensa e combattuta tra le due squadre poi all'inizio del terzo quarto comunque abbiamo aumentato l'intensità in difesa e siamo andati sul più 30 e l'abbiamo chiusa lì Una tua bella prestazione, i due nuovi innesti, Giorgini e Daniel Delev che impressione ha? Insomma cresce questa squadra? Sì questa squadra continua a crescere Abbiamo preso Diego che comunque ha fatto una buona partita anche come Daniel si sono inseriti subito bene nel gruppo squadra nonostante si allenino con noi da una settimana e quindi siamo molto contenti anche della loro prestazione Bene, adesso ci attende Benevento mercoledì poi di nuovo in casa domenica insomma te settimana dura? Sì una settimana dura soprattutto con due squadre che puntano ad entrare nelle prime quattro lo stanno facendo con tutte le loro forze Benevento viene da una sconfitta contro Angri quindi saranno affamati soprattutto in casa loro e poi domenica in casa contro Marigliano sarà importantissima e chiediamo anche l'apporto del nostro pubblico per vincere questa partita Certo, tra l'altro con pochi allenamenti insomma perché tra mercoledì e domenica quanti allenamenti ci saranno? Faremo sicuramente due allenamenti per preparare la partita un allenamento per preparare la partita di Benevento e altri due per quella di Marigliano ma giusto per preparare le partite Grazie a tutti